Siamo pronti, benissimo. Allora, tutto acceso, la registrazione è accesa. Bene, buongiorno a tutti. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo con contestuale registrazione audio. La presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione saranno oggetto di registrazione e potranno essere quindi seguiti in diretta dall'esterno, sia sulla web tv camera che su quella del Senato. Se non vi sono osservazioni contrarie anche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosseguo dei lavori. Abbiamo oggi il seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti e abbiamo la audizione di due esperti, cioè il professor Massimo Gandolfini e Don Fortunato di Noto. Prosegue dunque tale procedura informativa, sospesa nella seduta del 26 febbraio 2020. Ringrazio gli auditi per la loro disponibilità a partecipare in videoconferenza ai lavori della Commissione e a fornire il loro contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Do quindi la parola a Don Fortunato di Noto per i suoi dieci minuti. Prego, accenna il microfono. Buongiorno e ringrazio ovviamente la Commissione Infanzia, il Presidente Corzulti, lei il Vicepresidente di Don e tutti i membri della Commissione che mi stanno dando l'opportunità di poter condividere con voi alcune considerazioni alla luce dell'impegno che è sottoscritto, oltre come esperto, ma anche come Presidente, fondatore dell'Associazione Metare, che da 30 anni si occupa di contrastare il fenomeno della pedofilia, della pedopornografia, soprattutto nell'ambito di Internet. Mi preme ricordare che l'Italia, al popolo nel 1997, con una mozione votata da una limitata al Parlamento, fu il primo Parlamento del mondo che si occupò, iniziò ad occuparsi di questi fenomeni, che poi sfociarono, come ben sapete, nella legge del 2009 del 1998, definite come nuove forme di schiaritù. Mi onoro il fatto che quella mozione, la prima al mondo, fu sollecitata proprio dal sottoscritto e questo dimostra come c'è stata sempre, da sempre, con attenzione ben precisa, ben profonda da parte dell'Italia per iniziare, dato che fu un inizio e si sta continuando, a cercare di trovare tutte le giuste modalità, anche legislative, per un contrasto e per un fenomeno, che certamente ormai è un fenomeno globale, che non possiamo soltanto relegarla ad una territorialità, proprio perché Internet favorisce questa possibilità di compiere crimini sui bambini a livello globale in paradisi lontani, dove diventa difficile, quando manca la collaborazione tra il governo e quando mancano anche le leggi nei vari Stati, omogenee, di poter intervenire. Detto questo, e quindi vi ringrazio veramente di cuore, ritengo nel tempo che mi è stato concesso, di porre in evidenza il nostro report METER 2019 sulla pedofilia e la pedocornografia, perché è l'unica mappatura che noi possiamo offrire alle istituzioni, perché non è semplicemente una raccolta di cose, è una raccolta di particolari, e semplici, questioni legate a dati statistici, ma è proprio il concreto lavoro, concretissimo lavoro, che METER compie nel campo del contrasto alla pedofilia, ma anche nell'ambito della prevenzione delle informazioni. Ecco, per quanto riguarda non solo l'utilizzo Internet, che è sempre positivo ed è sempre capace di dare opportunità, però è anche uno dei luoghi più, tra virgolette, pericolosi per quanto riguarda i minori, proprio perché i minori vengono particolarmente coinvolti in questo tipo di fenomeno. Il lavoro del report di 150 pagine, noi abbiamo mandato link da poter utilizzare e usufruire da parte dei membri per comprendere sempre di più questo grosso lavoro che ogni anno noi presentiamo a tutte le istituzioni, non soltanto italiane, ma anche mondiali, e dobbiamo sottolineare che il report fa emergere dei dati, non sono numeri steli, anzi, sul contrario, sono dei numeri che racchiudono e raccolgono per ogni numero la storia di un bambino accusato. Si tenga conto che Metter ha offerto già negli ultimi dal 2002 al 2019, tenete conto, più di 61.525 protocolli di segnalazione. Noi abbiamo un protocollo da ormai decenni con la Polizia Postale italiana, ma abbiamo esteso anche la possibilità di avere dei protocolli con la Polizia Postale, chiamiamola così, polacca, comunque la neozelandese, con tanti altri paesi. Voi tenete conto quanto è importante come un'associazione di volontariati da 30 anni impegnata nel campo ha la possibilità di creare i protocolli per poter accelerare eventualmente l'intervento investigativo da parte della Polizia, perché si chiede l'intervento investigativo non soltanto da una vista preventiva più informativo, perché l'aspetto investigativo ci permette di frenare per quanto possibile questo flusso eccessivo, massiccio, ecco, di abusi sessuali sui bambini che vengono rappresentati nelle foto e nei video. Certamente mi permettete in un minuto, quando io penso se fosse tuo figlio, se fosse tua figlia, quando voi immaginate che di fronte a delle immagini dove vengono perpetuate delle violenze anche sui neonati. Una delle ultime operazioni che abbiamo potuto far fare alla Polizia italiana con l'intervento della Polizia tedesca, proprio il filone dell'infantofilia, aver consegnato 60 video con 60 neonati violentamente sovrati in una verta forma tedesca, questa è la dimostrazione come il fenomeno, è un fenomeno che non guarda l'età, anzi ritiene questo fenomeno così perverso e aberrante di poter utilizzare i bambini in tenerissima età e questa è la dimostrazione come di fatto nei nostri protocolli di segnalazione, tenete conto, lo voglio ripetere, 61.525 protocolli sono un'enormità per quanto riguarda l'impegno della segnalazione, proprio come cittadini, ma come anche persone che hanno a cuore il bene dell'infanzia, anche se vogliamo ripetere che le foto e i video sono già di abusi avvenuti, quindi il problema è che il danno è stato perpetuato e forse dimentichiamo che di fronte a internet il danno viene ripetuto, però mi viene una considerazione, noi teniamo conto che se dobbiamo pensare che abbiamo noi segnalato negli ultimi 12 anni più di 80 milioni di immagini pedocornografiche e dobbiamo considerare anche i video, circa 30 milioni di video segnalati in tutte le polizie del mondo, oltre a quella italiana, voi tenete conto che se dovessimo fare un confronto tra l'amore del materiale e cosa corrisponde al materiale, stiamo parlando di milioni e milioni di bambini prepuberi, perché quando parliamo di pedocornografia vogliamo sottorideare la gravità del problema perché è una preferenza, è una specie di perversione che ha per oggetto il bambino, sono cose che sicuramente si sanno, ma il problema è quella domanda che vi ho fatto fin dall'inizio, se fosse tuo figlio, se fosse tua figlia, se tutto questo accadesse alla tua vita, alla tua famiglia, se accadesse anche al di fuori della tua famiglia, voi capite che i flussi della produzione di materiale pedocornografico che ormai è quasi scontato, sono anche flussi pedocriminali, dove le proprie organizzazioni hanno pensato di strutturare la possibilità di sfruttamento dei bambini in tutto il mondo e di fondere in tutto il mondo attraverso piattaforme web, a volte free, a volte a pagamento, ma certamente sono strutture pedocornografico pedocornografico che hanno fondi, raccolgono fondi e lucrano sulla fede dei bambini, questo la dice lunga, di come l'impegno dovrebbe essere un impegno estremamente globale e non certamente confinato soltanto al nostro territorio, ciò che significa questo? Una considerazione, se mi permettete, cari membri della Commissione, mi viene spontanea e forse ne comprendiamo la portare il significato, se le polizie in diversi paesi del mondo avessero preso sul serio le nostre denunce, denunce lo ripeto formali, non denunce tanto per dire un numero, forse avrebbero maggiormente contribuita la repressione di tale fenomeno, dello sfruttamento sessuale a danno dei minori, forse avrebbero individuato qualche vittima ancora schiava e sottomessa da anni da soggetti perversi e pericolosi, o tenete conto che ci sono vittime che noi li vediamo crescere nei video, cioè violentate magari a due anni, li troviamo anche a 15 anni ancora violentate, questa è la dimostrazione di come è un fenomeno così esteso, così particolarmente inquietante, che non possiamo permetterci di considerarlo soltanto un fenomeno marginale e un impegno che dico anche davanti alla Commissione, perché non può essere considerato soltanto un fenomeno marginale, non possiamo non ricordare anche e comunque la responsabilità dei server provider, dei colossi del web, che stesso si faventano dietro una falsa privacy tutela dei utenti, a volte non fornendo minimamente alle polizie sotto richiesta, magari non succederà in Italia, ma succederà in altri paesi, per questo parte della collaborazione, di fornire gli elementi identificativi dei soggetti, pertanto risulterete la segnalazione, ma questo anche il confronto che abbiamo fatto con altre organizzazioni mondiali diventa vanificato, quindi il contrasto non esiste pur in Italia essendoci leggi importanti che sono anche modello per tanti altri paesi. Non dimentichiamo anche la pedofilia culturale, è un fenomeno sommerso, ma è un fenomeno ormai troppo evidente e troppo poco contrastato, certamente a una pedofilia culturale si deve contrastare a una cultura, non dico forte, non dico di un pensiero forte, però anche di una capacità nuova di saper mettere al centro veramente il benessere del bambino, perché se noi non mettiamo al centro il benessere del bambino, automaticamente le pseudoculture, immaginate che si diceva ora, non si diceva più, le giornate dell'orgoglio pedofilo, che ancora oggi vengono benissimo celebrati, per i prossimi giorni in tutto il mondo vengono celebrate queste giornate, nella normalizzazione del fenomeno della pedofilia e anche per usufruire come un pacchetto dono di pedopornografia, quindi la ricerca di avere anche pacchetti dono di materiale pedopornografico, non è la visione di un visionario, sono tutte cose che io dico, ma tutte cose che voi dall'altra delle soluzioni che rivestite potete chiedere e noi possiamo, non soltanto noi, documentare. Quindi questo significa che probabilmente il contrasto anche ad una giustificazione della pedofilia, ad una possibilità di poter vedere domani delle relazioni non soltanto d'amore e d'affetto, nella logica tutto è amore e qualunque delle cose è amore, allora può certamente diventare un fenomeno veramente inquietante di cui posso sottolineare che tanti altri studiosi e eminenti neuropsichiatri o psichiatri italiani non solo sottolineano che la bricolosità è già in atto e si sta evidentemente evidenziando. basta consultare i portali madre dove raccoglono migliaia e migliaia di siti collettivi ma anche di singole persone che si manifestano prettamente pedofile con una naturalezza che certamente questo inquieta e porta in evidenza come il rispetto dei bambini venga fatto fino a un certo punto. evidentemente è necessaria una collaborazione e una capacità di chiarificazione di questi fenomeni che un pochino a nostro parere, al nostro parere di me, ci è sfuggito un po' di mano proprio perché manca un'attenzione, proprio perché manca una reazione anche sociale, non soltanto sociale ma anche politica e anche culturale nei confronti di questi fenomeni. Lo ripeto, se noi dovessimo pensare a codesta onorevole commissione che noi denunciamo, abbiamo denunciato migliaia di neonati scoprati, questo qualcosa dovrebbe creare, cosa dovrebbe provocare nel cuore delle persone di buona volontà ma anche delle persone che hanno responsabilità per poter intervenire in maniera diregta, seria, profonda e come anche la questione per quanto riguarda l'utilizzo di internet che deve essere utilizzato con responsabilità, lo sappiamo tutti, ma che deve sicuramente avere dei sistemi di piattaforme che possono eventualmente inibire e non soltanto inibire l'utilizzo di una massiccia forma di pornografia che sicuramente sarà lecita, non voglio qui citare poi lo sfruttamento per quanto riguarda la questione della pornografia adulta ma anche per quanto riguarda la pornografia minorile dove veramente il fenomeno è diventato così incontrollabile perché non è controllato. La domanda che ci puliamo è chi controlla i controllori e questo certamente è di fondamentale importanza. Il fenomeno è un fenomeno di grande un'attenzione che vada veramente a salvare i bambini dato che si parla di due formi di scavitù. Io vi ringrazio per l'opportunità che mi avete offerto, qualunque risposta a delle domande che verranno in seguito siamo veramente disponibili come associazione e come io persona a rispondere ad ogni questione e ogni visito. Vi ringrazio di cuore. Grazie di cuore a Don Fortunato di Noto per il suo appassionato intervento. Abbiamo a disposizione un report, il report pedofilia e pedopornografia anno 2019 di METER da parte dei bambini, l'associazione di Don Fortunato e il testo scritto del suo intervento che sarà a disposizione dei commissari. Bene, do la parola al professor Massimo Gandolfini. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno signor Presidente e buongiorno onorevoli parlamentari della Commissione. Anch'io mi associo al ringraziamento per l'invito e l'opportunità che mi viene data. Farò uno sforzo di massima sintesi e chiarezza su un tema di valore antropologico e sociale di grandissima valenza e purtroppo di tragica attualità come quello della violenza su minori, che presenta numerosi aspetti che certamente non potrò affontrare in modo completo ed esaustivo. Essendo una mia specifica competenza, mi limiterò a proporre alla vostra attenzione degli aspetti neurobiologici della dipendenza da pornografia e sesso online su soggetti in cui la strutturazione della personalità, come sono i minori, è in via di graduale e progressivo sviluppo, al fine di dimostrare i tragici danni che tale pratica provoca nel cervello del minore. Voglio partire da una premessa. L'essere umano è caratterizzato da due pulsioni primarie che negli animali non umani hanno la proprietà dell'istinto, cioè di una spinta riflessa, automatica e come tale non governabile. Sono la sopravvivenza e la riproduzione. Entrambe, come ovvio, sono finalizzate al mantenimento della specie. Ne consegue che quando parliamo di sesso e delle degenerazioni sessuali pornografiche stiamo toccando uno dei due delicatissimi tasti che strutturano l'essere umano. Con l'aggiunta che trattandosi di minori, le strutture cognitive di controllo di tali pulsioni sono ancora molto immature, informazioni e non organizzate. Ne consegue quindi una particolare vulnerabilità di questi soggetti schiacciati da una parte fra il carico emotivo-emozionale della pulsione primaria e dall'altra dall'assenza di un adeguato gate control cognitivo. Entrando più specificamente nel tema, alcuni dati statistici sono utili per comprendere l'enorme portata sociale dell'argomento che stiamo affrontando. Qualche numero. Si contano circa 4 milioni di portali dedicati alla pornografia, 150 milioni di pagine virtuali visitate quotidianamente con un fratturato di 100 miliardi di dollari all'anno. L'Italia, ahimè, è il quarto paese al mondo nel consumo di sesso online con un fatturato di circa 4 miliardi di dollari all'anno. Relativamente alla popolazione residente, Milano e Roma occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella top 10 mondiale e la fonte di questi dati è il sito YouPorn. Nel nostro paese il primo accesso dei minori alla pornografia online è stimato fra gli 8 e i 12 anni. Dato cronobiologico impressionante, si è confrontato con il fatto che la completa maturazione cerebrale in termini anatomofunzionali si completa intorno ai 20-21 anni. Da persone adulte responsabili e quindi al di là di qualsiasi appartenenza confessionale o ideologica, la domanda che dobbiamo porci è la seguente. Che cosa accade nel cervello di un bambino quando è sottoposto ad una stimolazione intensa e continua come quella di immagini hard che vanno ad incidere proprio su quella pulsione primaria e innata che riguarda sesso, riproduzione, accoppiamento? Sul piano neurobiologico questi simoli vanno ad alterare il funzionamento dei meccanismi cerebrali che controllano due aspetti della nostra vita, la motivazione e la gratificazione. L'aspetto motivazionale è integrato in un sistema che si dice dopaminergico, che controlla le azioni di ricerca dello stimolo gratificante. La gratificazione è integrata nel sistema opioide-endogeno che controlla l'immissione in circolo delle endorfine. La visione di immagini pornografiche, inizialmente messa in atto da quadri psicoaffettivi assolutamente naturali, quale la curiosità o anche dalla semplice casualità, provoca l'intensa attivazione del circuito della ricompensa che, attivato, tende poi ad automantenersi con una riverberazione dello stimolo gratificante che porta poi alla ricerca di stimoli sempre nuovi, sempre più coinvolgenti ed attivanti. Si innesca un sistema di vero e proprio cortocircuito che struttura il fenomeno della dipendenza da pornografia. Esiste in realtà un sistema di controllo che è rappresentato dalle aree cerebrali del lobo frontale, ma questo non detiene in modo assoluto la capacità di blocco, a maggior ragione in soggetti minorenni che, come ho già detto, si trovano in una condizione di non aver completato il lavoro di costruzione delle network neuronali necessari per immaturità cronologica cerebrale. Risultato, il minore cade entro una rete neurobiologica che lo schiavizza, costringendolo alla ricerca sempre più spasmodica di sensazioni hard, secondo un vero e proprio agire di carattere compulsivo, compresa la spinta verso forme, a sua volta, di violenza sociale, di cui poi sono particolarmente vittime le femmine, bimbe e adolescenti, considerata la prevarenza maschile nel consumo della pornografia online. Negli USA, l'87% dei consumatori è di sesso maschile. Un altro aspetto, spesso misconosciuto, è rappresentato dal ruolo di un neuroormone ipofisario noto come ossitocina, è in natura l'ormone dell'allattamento e dell'accudimento materno durante il puerperio, ma questo gioca un ruolo di potenziamento del legame intimo durante il rapporto sessuale. Ebbene, l'immagine pornografica stimola la produzione di ossitocina e questo spinge il soggetto alla ricerca dell'amante virtuale, sono parole tecniche, usate in tutto il mondo, rappresentato dal proprio tablet, smartphone o PC, strutturando un legame di dipendenza del minore rispetto al supporto tecnologico che gli garantisce lo stimolo che gli sta ricercando. Il risultato finale è una cascata di eventi susseguentesi che sono in ordine perdita del controllo pulsionale, pensiero ossessivo, delirante, anche con allucinazioni, dipendenza, ricerca di stimoli sempre più coinvolgenti, violenza sociale. Nell'adulto si strutturano parafilie, animalismo, pedopornografia, comportamenti illegali come la pedofilia. I neurobiologi definiscono questa condotta compulsiva un, virgolette, carcere neurobiologico, la cui vittima è un minore che col passare degli anni corre il rischio di diventare poi carnefice. In conclusione, la pornografia è una droga emotivo-comportamentale che produce dipendenza erotica. Ci sono testimonianze di decine di atti autoerotici al giorno con il risultato di una impotenza strutturata nel compimento poi del vero e proprio normale rapporto sessuale. Isolamento sociale e ricerca compulsiva che può portare fino alla condotta illegale. Cito quasi sempre questo professore di antropologia inglese, Will Durant, che già nel 1968 nel suo testo Lessons of History diceva, virgolette, il sesso è un fiume di fuoco che deve essere incanalato in un centinaio di restrizioni altrimenti porta al caos sia l'individuo che la società. Ritengo che questa necessariamente rapida digressione di carattere scientifico costituisca l'indispensabile premessa al fine di formulare scelte legislative che impediscano il più possibile la strutturazione di questa che non esito a definire tragedia umana e sociale. Pertanto, e passo, diciamo così, a dei consigli o anche a delle esortazioni a loro parlamentari, primo, piena condivisione della proposta di un sistema di installazione automatica di un vero e proprio parental control su tutti i device tecnologici cui i nostri figli e nipoti hanno ormai facile, quotidiano accesso. Purtroppo, anche questo è incrementato dalla recentissima e tragica esperienza del lockdown. Secondo, disattivazione possibile soltanto da parte dell'adulto titolare del contratto. Terzo, necessità di un vero e proprio filtro automatico che blocchi contenuti pornografici dannosi, come abbiamo già detto, per i minori. Quarto, rigetto assoluto di opzioni che descrivano scenari che io definisco insensati di limitazione della libertà come fosse una censura. Qui la posta in gioco è altissima. Il benessere psicofisico di nostri bimbi e adolescenti. Il che significa come vogliamo costruire poi la società di domani. Il futuro del nostro paese per il quale abbiamo tutti un'enorme responsabilità. Vorrei concludere con un'esortazione, un'ulteriore proposta che loro valuteranno secondo le loro categorie di giudizio. Riguardante la popolazione adulta maggiorenne consumatrice di pornografia e di sesso online. Sarebbe utile una tassa per l'accesso ai siti promotori i cui proventi vengano devolute a campagne informative e formative di contrasto di tutte le forme di pratica di sesso online via internet. La giusta campagna di contrasto alla violenza sulla donna e al femminicidio passa anche attraverso la lotta contro l'indipendenza da sesso e da pornografia online. Vi ringrazio per la vostra cortese e attenzione. Grazie al professor Massimo Gandolfini grazie ancora anche a Don Fortunato di Noto io sono nella spiacevolissima condizione di dovermi recare presso la giunta delle autorizzazioni a procedere nella quale dovremo tra qualche minuto votare. Quindi io chiederei ai colleghi se sono d'accordo vista questa urgenza se possono brevissimamente se qualcuno vuole fare qualche domanda molto breve o altrimenti se possono fare delle domande scritte che poi come al solito trasmetteremo ai nostri due consultori per poter poi avere risposte scritte che saranno inserite nella indagine. Quindi vedo che l'onorevole Mantovani ha una brevissima domanda prego Sì molto molto veloce ringrazio gli auditi Don Fortunato e il professore per le relazioni chiedevo se avete la documentazione magari la fate pervenire successivamente via email perché non non riesco a a capire bene dalle relazioni e dal report che avete fatto ora se dalle indagini dalle denunce che sono state fatte e dalle indagini successive si riesce a quantificare dal punto di vista economico qual è il giro d'affari dietro a diciamo al scambio di materiale pedopornografico ecco vorrei capire se sono state fatte analisi e indagini su qual è il ritorno economico di questo tipo di traffico e di attività grazie grazie all'onorevole Mantovani anche l'onorevole Siani ha una breve domanda grazie professor Gandolfini ci puoi lasciare casomai una memoria scritta su quali sono le forme di prevenzione che possiamo attuare per i bambini oltre le forme di repressione che abbiamo ascoltato questo forse è una cosa di maggiore importanza se dobbiamo rivolgersi a famiglia scuola comunità parrocchie quindi cosa possiamo fare prima grazie molto altre domande dei colleghi bene non ci sono altre domande allora io chiederei a entrambi gli auditi se possono far pervenire le loro risposte per iscritto in modo che poi provvediamo a inoltrarle a tutti i commissari bene quindi ringrazio gli auditi di chiaro chiusa l'audizione seguito dell'indagine conoscitiva quindi rinviato ricordo che la commissione tornerà a riunirsi domani mattina alle ore 8 per l'audizione del ministro delle pari opportunità e della famiglia sulle misure adottate in favore dei minori delle famiglie nel periodo dell'emergenza epidemiologica da covid-19 ricordo altresì che nel corso dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza ha tenuto conto della condivisa esigenza di concludere quanto prima i lavori dell'indagine conoscitiva sulla violenza tra minori e danni di minori adolescenzi si è convenuto di limitare solo ad alcuni dei soggetti indicati nel programma di indagine l'audizione in presenza o in videoconferenza richiedendo comunque a tutti l'invio di un contributo scritto da acquisire agli atti di tali documenti che saranno pubblicati su Teca si terrà conto nella stesura del documento finale vi informo che ad oggi sono pervenuti i contributi della dottoressa Ciardi della polizia postale dell'associazione Terdes Hommes del procuratore della repubblica presso il tribunale minorenni di Roma Giuseppina Latella dell'IRCS istituto Giannina Gaslini del comitato italiano dell'unice FONLUS dell'associazione Save the Children in Italia dell'ANCI associazione comuni italiani dell'ISTAT istituto nazionale di statistica dell'AGICOM garante delle comunicazioni del gruppo CRC gruppo di lavori per la convinzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'Handed Child Sexual Exploitation Expat Italia ONLUS infine vi informo che hanno dato la loro disponibilità a intervenire in commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e il Ministro della Salute Roberto Speranza che saranno presenti in questa commissione rispettivamente martedì 21 luglio alle ore 13 e mercoledì 16 settembre alle ore 8 ha dato la propria disponibilità anche il Presidente dell'Autorità Garante della Privacy Antonello Soro che sarà presente in quest'Aula mercoledì 8 luglio alle ore 8 grazie ancora di tutto a Don Fortunato di Noto che esortiamo a continuare con il suo impegno al Professor Massimo Gandolfini che esortiamo a continuare nel suo impegno e dichiaro chiusa la seduta grazie a tutti grazie a tutti